Ciao a tutti, vediamo alcune equazioni con i numeri complessi. Questa è un'equazione che contiene sia z che z coniugato, non possiamo fare previsioni, non possiamo dire quante soluzioni ci sono e se ci sono. Non c'è una tecnica particolare quando siamo di fronte a questo tipo di equazione non polinomiale. Scriviamo x più y per quanto riguarda z e scriviamo x meno y per quanto riguarda z coniugato. Sostituiamo e vediamo cosa si ottiene. Naturalmente quando abbiamo i al quadrato sostituiamo con meno 1 e abbiamo ix più y più 5 uguale x più y. Due numeri complessi sono uguali se sono uguali le parti reali e se sono uguali le parti immaginarie. Quindi possiamo scrivere un sistema. La parte reale del primo numero è y più 5, la parte reale del secondo numero è x. Le parti immaginarie sono x e y. Notiamo subito che x uguale a y e quindi qui otteniamo y più 5 uguale a y e ovviamente questo è impossibile perché ci dà 5 uguale 0. Questa equazione non ha soluzioni. Anche in questo caso possiamo scrivere z come x più y e allora z al quadrato, quadrato del binomio sarà x al quadrato meno y al quadrato più 2i x y. Pertanto noi possiamo scrivere l'equazione in questo modo x al quadrato meno y al quadrato più 2xy uguale meno 8 più 6i. dobbiamo ragionare come in precedenza. Devono essere uguali le parti reali che sono questa e questa. Devono essere uguali le parti immaginarie che sono questa e questa. Aggiungiamo però una terza equazione, l'uguaglianza tra i moduli. Il modulo di z al quadrato è uguale al modulo di z tutto al quadrato perciò è la parte reale al quadrato più la parte immaginaria al quadrato e per quanto riguarda il modulo di meno 8 più 6i dovremmo fare la radice quadrata di 64 più 36 cioè la radice quadrata di 100. Abbiamo perciò un sistema nel quale metteremo l'uguaglianza tra i moduli quindi x quadro più y quadro uguale 10. L'uguaglianza tra le parti reali dei due numeri complessi che abbiamo qui quindi x al quadrato meno y al quadrato uguale meno 8 e infine l'uguaglianza tra le parti immaginarie. Questo è molto importante perché sommando tra di loro le prime due equazioni otteniamo 2x al quadrato uguale 2 e qui x y uguale 3 da cui x al quadrato uguale 1 e questo ci consente di scrivere due coppie cioè sappiamo che x al quadrato uguale 1 significa x uguale 1 o x uguale a meno 1 perciò se x uguale a 1 mettendo nella seconda equazione x uguale a 1 abbiamo y uguale 3 mettendo x uguale a meno 1 abbiamo y uguale meno 3 perciò quali sono i valori di z che soddisfano questa equazione sono 1 più 3 oppure meno 1 meno 3 e vi faccio notare che z2 è uguale a meno z1 e questo non deve stupire. Come facciamo a risolvere un'equazione invece di questo tipo? È un'equazione polinomiale ci aspettiamo 8 soluzioni. I coefficienti sono reali perciò sappiamo che per ogni alfa soluzione allora anche alfa coniugato sarà soluzione. Ora come si fa nelle equazioni dei numeri reali? Possiamo scrivere z alla quarta uguale a t e risolvere t alla seconda meno 15t meno 16 uguale 0. Possiamo scomporre facilmente questo polinomio perché questo è t più 1 per t meno 16 altrimenti si usa la formula risolutiva e ricaviamo t1 uguale meno 1 t2 uguale 16 che vuol dire z1 alla quarta uguale a meno 1 e z2 alla quarta uguale 16. Ragioniamo ora su questa equazione z1 alla quarta uguale a meno 1. È comodo utilizzare la notazione esponenziale perché meno 1 sappiamo che è elevato a i pi greco. Un numero z elevato alla n lo possiamo scrivere come il modulo di z alla n per e alla in alfa dove alfa è l'argomento. Qui noi abbiamo n uguale a 4 per cui se il modulo di z1 alla quarta deve essere uguale al modulo di meno 1 abbiamo che rho alla quarta se chiamiamo rho il modulo di z1 abbiamo che rho alla quarta deve essere uguale a 1. E l'argomento? Beh noi qui abbiamo 4 alfa deve essere uguale all'argomento che abbiamo qui. 4 alfa deve essere uguale a pi greco a cui però dobbiamo aggiungere 2k pi greco. Per quanto riguarda il modulo non abbiamo dubbi rho è uguale a 1 e per quanto riguarda l'argomento abbiamo pi greco quarti più k pi greco mezzi. Per quanto riguarda queste 4 soluzioni pertanto abbiamo la prima è e elevato a i pi greco quarti dobbiamo porre k uguale a 0. Seconda il modulo è sempre 1 e abbiamo pi greco quarti più pi greco mezzi e così via per le altre quindi avremo pi greco quarti più pi greco quindi e alla i 5 quarti pi greco e poi avremo e elevato a i 7 quarti pi greco. Questo è simile a un esercizio che abbiamo visto nel video precedente dove avevamo x alla quarta uguale meno 4 qui abbiamo z alla quarta uguale a meno 1. Possiamo scrivere quanto vale il coseno di pi greco quarti e il seno di pi greco quarti e quindi qui abbiamo radice di 2 fratto 2 più i radice di 2 fratto 2 così possiamo mettere in evidenze coniugati perché qui abbiamo meno radice di 2 fratto 2 più i radice di 2 fratto 2 questo ci dà meno radice di 2 fratto 2 meno i radice di 2 fratto 2 e questo invece ci dà radice di 2 fratto 2 meno i radice di 2 fratto 2 e vediamo che questi due sono coniugati questi due sono coniugati queste sono le prime quattro soluzioni per ottenere le altre quattro dobbiamo risolvere z alla quarta uguale 16 ma la procedura è la stessa quindi scriveremo z2 alla quarta uguale 16 questo è un numero reale quindi è 16 per e alla i0 e allora abbiamo che rho alla quarta deve essere uguale a 16 che vuol dire che rho uguale a 2 e l'argomento chiamiamolo teta 4 teta deve essere uguale a 0 più 2k pi greco che vuol dire teta è uguale a k pi greco mezzi e allora le soluzioni diciamo s5 s6 s7 e s8 saranno il modulo è 2 quindi abbiamo 2 e alla i0 che vuol dire il numero reale 2 poi se mettiamo k uguale a 1 abbiamo che l'argomento è pi greco mezzi quindi abbiamo 2 e alla i pi greco mezzi e andiamo avanti qui senza scrivere la forma esponenziale scriviamo direttamente meno 2 e qui scriviamo meno 2 i ed ecco quindi le otto soluzioni dell'equazione proposta vi faccio vedere come impostare alcune equazioni senza risolverle in modo completo d'altra parte quando si arriva a un certo punto si tratta poi di utilizzare cose già note qui abbiamo z meno 1 alla quinta uguale a z più 1 alla quinta ora io posso dividere per z meno 1 alla quinta solo se z è diverso da 1 come faccio a capire se posso dividere per z meno 1 alla quinta verifico che z uguale a 1 non è soluzione infatti se z uguale a 1 ottengo 0 uguale 32 chiaramente questo non è vero e allora posso dividere per z meno 1 alla quinta in modo tale da ottenere qui 1 e z più 1 fratto z meno 1 tutto alla quinta che poi vuol dire z più 1 su z meno 1 alla quinta uguale a 1 bene se io pongo ad esempio t uguale a z più 1 fratto z meno 1 posso risolvere t alla quinta uguale 1 e rientriamo nelle casistiche precedenti qui avremo 5 soluzioni t 0 t 1 eccetera 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 che dal momento che t alla quinta deve essere uguale a 1 e 1 è un numero reale le varie soluzioni saranno del tipo 1 per e elevato a 2k pi greco fratto 5 i con k che va da 0 fino a 4 dopodiché dovrò ritornare a z e quindi dovrò scrivere che z più 1 sarà uguale a un determinato tk per z meno 1 e si andrà a determinare chi saranno i vari z ora vi faccio vedere un'equazione un po lunga che usa però varie tecniche che si usano anche nei numeri reali ma mettiamo tutto insieme e abbiamo questa equazione e ci viene detto di risolvere in c questa equazione sapendo che esiste una soluzione reale possiamo indicare con alfa la soluzione reale e se alfa è una soluzione possiamo sostituire al posto di z questo alfa e quindi scrivere i alfa alla terza meno 1 più i alfa alla seconda più 1 meno 2 i alfa più 6 più 8 i uguale a 0 perché faccio questo perché otteniamo un'uguaglianza di un numero complesso a 0 dove qui abbiamo coefficienti reali e posso scrivere che la parte reale deve essere uguale alla parte immaginaria sviluppando qui abbiamo la parte reale è uguale a meno alfa al quadrato più alfa più 6 questo deve essere uguale a 0 cioè alfa al quadrato meno alfa meno 6 deve essere uguale a 0 ho uguagliato le parti reali la parte immaginaria è quella che contiene le i quindi ripeto qui ho uguagliato le parti reali e qui le parti immaginarie la parte reale è la parte immaginaria del numero complesso a primo membro con 0 perché 0 ovviamente uguale a 0 più i 0 per quanto riguarda questa equazione possiamo tranquillamente scrivere che alfa è uguale a 1 più o meno la radice quadrata di 1 più 24 fratto 2 classica formula risolutiva per le equazioni di secondo grado è un'equazione di secondo grado in r sono tutti numeri reali quindi qui abbiamo 1 più o meno 5 fratto 2 che ci dà meno 2 3 uno di questi valori deve essere soluzione ce lo dice il problema il problema dice che alfa è una soluzione dell'equazione quindi andiamo a sostituire nell'equazione di partenza al posto di z metteremo meno 2 oppure 3 dovremmo metterli entrambi ma per risparmiare tempo mettendo alfa uguale a meno 2 si ottiene che l'equazione è verificata e allora vuol dire che alfa uguale a meno 2 è soluzione a cosa ci serve questo ci serve per dire ricordando la divisione tra polinomi che se io prendo questo polinomio lo posso dividere per z più 2 proprio perché meno 2 è soluzione quindi per quanto sappiamo della divisione tra polinomi possiamo eseguire questa divisione ora si tratta di fare la divisione tra polinomi alla quale siamo abituati nei numeri reali nei numeri complessi ma l'idea è la stessa io prendo iz al cubo e lo divido per z e ottengo iz al quadrato dopodiché moltiplico iz al quadrato per z e poi per 2 e gli cambio il segno in modo tale da ottenere meno iz al cubo più 2 iz al quadrato che diventa meno 2 iz al quadrato e poi fare la somma quindi questo va via qui abbiamo meno 1 meno 3i z al quadrato riportiamo poi questa parte e andiamo avanti ora dovremmo fare questo diviso z eccetera eccetera vi risparmio i passaggi e si ottiene che il dividendo lo possiamo scrivere come z più 2 per il quoziente che avrò ottenuto qui che è iz al quadrato meno 1 più 3i z più 3 più 4i perciò le soluzioni dell'equazione di partenza cioè di questa equazione di terzo grado saranno z uguale a meno 2 ma questo lo sapevamo già oppure le soluzioni che otteniamo da iz al quadrato meno 1 più 3i z più 3 più 4i uguale a 0 quindi avremo un totale di tre soluzioni e un'equazione di terzo grado risolvendo questa equazione avremo le altre due soluzioni ora come si risolve ma posso vederla come le classiche equazioni di secondo grado e quindi scriviamo delta come b al quadrato meno 4ac quindi meno 1 meno 3i al quadrato meno 4i che moltiplica 3 più 4i e facendo un po di conti si ottiene 8 meno 6i se volessimo continuare a usare la formula risolutiva a questo punto ci servirebbe sapere quanto vale la radice quadrata di delta però noi dobbiamo ragionare in questo modo cioè questo è delta stiamo cercando due numeri complessi w1 e w2 tra l'altro sappiamo come abbiamo visto in precedenza che w1 uguale a meno w2 tali per cui questi numeri elevati al quadrato ci danno 8 meno 6i cioè stiamo risolvendo un'altra equazione ovvero w1 al quadrato uguale 8 meno 6i e quindi se scriviamo w1 come x più y e quindi avremo che la parte reale di questo numero complesso deve essere uguale alla parte reale di questo numero complesso e la parte immaginaria di questo numero complesso deve essere uguale alla parte immaginaria di questo numero complesso come abbiamo visto in precedenza e aggiungiamo l'informazione sui moduli tra l'altro questo numero che avevamo utilizzato in precedenza è molto simile a quello che abbiamo adesso è semplicemente l'opposto quindi abbiamo il modulo al quadrato uguale al modulo del numero complesso che uguale a 10 come abbiamo visto in precedenza e poi avremo x al quadrato meno y al quadrato uguale 8 e 2xy uguale meno 6 ho uguagliato la parte reale e la parte immaginaria sono andato veloce perché è un numero molto simile a quello che avevamo visto nell'esercizio precedente da qui otteniamo sommando membro a membro queste equazioni si ottiene x al quadrato uguale 9 che ci dà x uguale a più o meno 3 e allora la coppia di valori sarà x uguale a 3 y uguale meno 1 x uguale meno 3 y uguale 1 cioè abbiamo che w1 è uguale a 3 meno i e come ci aspettavamo w2 è meno w1 quindi è meno 3 più i quindi scriviamo finalmente chi sono le due soluzioni di questa equazione di secondo grado che fa parte dell'equazione di terzo grado da cui siamo partiti stiamo cercando la soluzione 2 la soluzione 3 la soluzione 1 l'abbiamo già e abbiamo formula risolutiva meno b quindi 1 più 3 i più o meno radice delta ma adesso noi sappiamo chi sono le radici quadrate di delta sono 3 meno i e meno 3 più i quindi qui scriveremo più 3 meno i fratto 2 i e qui invece scriveremo 1 più 3 i meno 3 più i fratto 2 i e con qualche operazione algebrica otteniamo qui 1 meno 2 i e qui 2 più i abbiamo cioè ottenuto tre soluzioni due sono complesse e una è un numero reale che sono appunto 1 meno 2 i 2 più i e poi meno 2 con questo esercizio un po lungo termino questo video spero vi sia stato utile vi saluto vi ringrazio e alla prossima ciao